Il programma prevede fino alle 17.30 come ultima tappa San Marco in Lami, si incontreremo anche delle realtà produttive, un punto importante è anche la questione dei rapporti con le agenzie delle entrate e Equitalia, attualmente vanno sospese le cartelle esattoriali di Equitalia, vanno utilizzate dei regimi di sgravi fiscali per voi e di sospensione fiscale finché la situazione non sarà ripristinata. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.